Vale per tre anni ed è aperto all'adesione di tutti i soggetti interessati il protocollo anti-usura e anti-racket firmato questa mattina in prefettura a Salerno alla presenza anche del commissario nazionale anti-racket e dell'associazione che rappresenta le banche. Il protocollo avrà un ruolo fondamentale nella gestione della battaglia contro l'usura. I confidi si impegnano ad aggiornare periodicamente le convenzioni per l'accesso ai fonti, garantire tempi rapidi nelle procedure di accesso, promuovere tramite la figura del facilitatore anti-usura la conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà per le vittime, queste alcune delle misure previste. È un protocollo che dà attuazione all'accordo quadro che è stato aggiornato nel 2021 dal ministro dell'interno, sottoscritto dal ministro dell'interno, dal commissario anti-racket e anti-usura e da ABI oltre a altri soggetti istituzionali che contribuiscono a fare la rete di prevenzione del fenomeno dell'usura e che si prefigge di potenziare il sistema anti-usura attraverso la prevenzione e l'assistenza alle vittime di usura, attraverso degli strumenti che dovranno favorire l'emersione del fenomeno e soprattutto attraverso la prevenzione e l'assistenza di coloro che sono in difficoltà economica e che potrebbero cadere nella trappola dell'usura. Questo è un fenomeno che ha molto sommerso per sua natura e quindi è evidente che noi dobbiamo essere bravi ad essere vicino alle potenziali vittime, fare in modo che scelgano i canali istituzionali anziché affidarsi a chi pratica l'usura e purtroppo oggi chi pratica l'usura non è soltanto più lo strozzino di quartiere, ma è anche la delinquenza e la criminalità organizzata che utilizza questo strumento per talvolta impossessarsi delle aziende, per gestirle in maniera subdola, per sottrarle ai legittimi titolari e per interferire sull'economia legale e sulla libera concorrenza. Quindi voi capite che è un danno che riguarda i singoli individui ma riguarda anche la società civile. Oltretutto il fenomeno dell'usura soprattutto negli ultimi anni sta attecchendo molto sulle famiglie, famiglie che talvolta si trovano sovraesposte e sovraindebitate, nella difficoltà di gestire eventi che erano imprevisti e imprevedibili o anche per non aver saputo ben calcolare le proprie capacità di spesa e quindi il sovraindebitamento dovuto a un uso non responsabile del danaro. Quindi è anche un problema di educazione finanziaria, è un problema di educazione al consumo, è un problema che deve interessare tutte le istituzioni cercando di contattare, stando fuori all'esterno per strada, nel modo più diretto e possibile le potenziali vittime, ma prima ancora coloro che, ripeto, non fanno un uso corretto del danaro. Noi bisogna mettere le persone nella condizione di avere una sensibilità per l'uso consapero dell'indebitamento. Quindi il ruolo delle banche con la sottoscrizione di questo protocollo è quello di aiutare famiglie e imprese a avere la capacità di misurare la capacità di rimborso e quindi di restare nell'area della legalità per evitare poi di cadere preda delle situazioni quelle più difficili che ovviamente possono sfociare poi nella istorsione e nell'usura. Il ruolo delle banche è fondamentale perché è un'opera di sensibilizzazione e di prevenzione molto importante che oggi con la sottoscrizione del protocollo saremo in condizione di svolgere più efficacemente. Il ruolo delle banche è un'opera di sensibilizzazione e un'opera di sensibilizzazione.